amici miei buonasera dunque stasera non posso dire fratelli bianconeri e non perché non si tratta di juventus stasera parliamo della nazionale che debutta contro l'irlanda e devo dire che sostanzialmente debutiamo abbastanza bene no perché insomma vincere 2 a 0 è comunque un risultato direi soddisfacente la partita sinceramente non è che mi abbia dato delle grandissime indicazioni o dei grandi brividi nel primo tempo direi comunque una buona italia che ha giocato da par suo andando in vantaggio tra l'altro con un bel gol di berardi che continua a ripetere che questo ragazzo sarebbe ora che cambiasse l'ido con tutto il rispetto per il bravo sassuolo ma provasse a giocare in una grande squadra perché secondo me ha le possibilità di farlo detto ciò quindi ripeto ho visto un buon primo tempo buono dove mi sono abbastanza divertito anche se ripeto non ho visto niente di eclatante ma il primo tempo mi è piaciuto nel secondo tempo la cosa direi che è molto peggiorata molto peggiorata forse era una nazionale italiana un po stanca per l'enorme accumulo di partite anche dalla stagione in atto tra tra le coppe tra il campionato quindi sicuramente qualcosa può aver influito questo e mancini si presenta con una difesa alla vecchia al vecchio stile juventus con bonucci e chiellini in mezzo al campo uno di 36 e l'altro di 32 33 quanti ne ha e perché perché sono comunque due giocatori che insomma secondo alcuni allenatori mancini compreso continuano a dare sicurezza e però io ripeto quello che dico già da un po fino che incontri squadre come queste per carità io non voglio sminuire la vittoria ci mancherebbe altro non spetta a me fare questo di certo però ciò non toglie che fino che incontri squadre come l'irlanda che con tutto il rispetto non mi sembra tutto che uno squadrone che possa far paura diciamo che un'italia che si sa muovere che sa giocare un po un po al calcio non è che queste squadre creano solitamente grandi problemi e anche stasera ne è stato un esempio abbastanza chiaro ok per quello che invece poi riguarda il discorso dei giocatori io mi piacerebbe vedere diciamo così mi sarebbe piaciuto stasera vedere bonucci e chiellini contro una squadra onestamente più forte di quella che abbiamo visto e ci sono tante squadre più forte di questa a partire per esempio dalla francia io sinceramente non credo che bonucci e chiellini contro i grandi squadroni riusciranno a passare delle serate tranquille come quella di stasera perché sinceramente parlando è stata una serata molto tranquilla nel secondo tempo ho visto mancini un po sulle sue un po arrabbiato perché abbiamo secondo me concesso perlomeno un paio di cose pericolose e che si potevano evitare in tranquillità ma oltre a dire quello che ho detto fino a ora vorrei farvi notare una cosa ci sono state un paio di occasioni dove l'italia è partita dal basso non so soprattutto negli ultimi 15 minuti del secondo tempo in un paio di occasioni stavamo per essere uccellati proprio per lo stesso tipo di discorso che faccio da sempre quando le azioni partono dal basso allora le azioni del calcio devono partire dalla difesa quando ci sono le prerogative per poterlo fare non ti puoi andare a inciccischiare per niente correndo dei rischi che possono far cambiare un risultato perché ripeto quello di prima fino che giochi contro l'irlanda accettiamo tutto va bene tutto e non c'è problema ma quando poi vai a giocare contro le grandi squadre e hai questo tipo di atteggiamenti qui partendo dalla difesa e giocando due volte una volta con Verratti che è stato costretto ad andare verso la nostra area indietro per 20 metri senza che passasse la palla nessuno no fatto tutto da solo poi è uscito fuori per fortuna e la seconda volta perché Donnarumma ha dato il pallone pochissimo fuori dall'area ad un giocatore nostro che non mi ricordo che che non mi ricordo chi è con addosso due giocatori irlandesi se ti portano via la palla lì tu subisci il gol perché ripeto il tutto dipende sempre da con chi giochi fino che giochi con questi per carità discreti niente di particolare ma quando cominci a giocare con gli squadroni con i giocatori smaliziati questi errori qui non te li perdonano e sono gli errori che ho imputato soprattutto alla juventus quest'anno tante volte ho visto errori del genere io non capisco perché bisogna partire a giocare dalla difesa dal basso ma per quale motivo c'è qualcuno ti insegna a giocare così io non credo c'è giocare dal basso signori volete sapere cosa significa significa una cosa molto importante e cioè devi avere una squadra con giocatori dai piedi eccelsi non buoni eccelsi per poter giocare dal basso per non farti uccellare mai infatti la juventus due o tre volte quest'anno forse che quattro e in più tutte quelle che ti sono andate bene hai cioè ma tu non puoi giocare dal basso con gente come chiellini perché è un rischio non puoi giocare allora se tu in porta hai neuer che è un giocatore fortissimo in porta e bravissimo eccezionale con i piedi mi posso anche fidare ma quando tu in porta hai donna rumma che non sa se il piede destro tira a cagliari e quello destro tira a novara cioè non hai questo tipo di prerogative con tutto il rispetto per donna rumma è chiaramente è palesemente una battuta sì è chiaro però per far capire che quando tu parti dal basso tu devi avere dei giocatori che hanno dei piedi eccelsi e che si possono permettere in difesa di fare qualunque cosa quindi per capirci ancora meglio se tu in difesa hai giocatori in stile beckenbauer allora va tutto bene e puoi partire anche dal basso ma quando tu in difesa hai gente come chiellini chiellini è uno da spazzala c'ha due piedi chiellini ragazzi dai su l'abbiamo visto nella juventus per anni non vorremmo parlare mica di chiellini che sa usare i piedi il destro non ce l'ha il sinistro c'ha quel passaggino orizzontale perché questo è chiellini non è nient'altro e noi ci dobbiamo ancora affidare alla gente come chiellini e bonucci uno di 36 anni che vale versi 37 che dovrebbe essere in panchina da tempo in tribuna da tempo e lanciare i giovani poi in italia però ci lamentiamo del perché non abbiamo i campioni perché non vengono sui fuori classe in più stile totti e del piero o pirlo che fosse come giocatore dopo ci lamentiamo del perché non vengono fuori questi qui e siamo costretti a mantenere i nostri vecchi e i giovani fanno poca strada perché non gli dai fiducia con tutto il rispetto per chiunque sia ben chiaro io non voglio dire che voglio denigrare chiellini e bonucci anche per quel che ha fatto alla juve assolutamente no però sono due giocatori che secondo me sono uno palesemente a fine carriera l'altro è un giocatore che ha ancora due tre anni ma lo metterei in panchina ad aiutare a crescere i giovani non peraltro questo è il mio pensiero lo sapete ormai su questi due giocatori però indipendentemente da tutto ciò le azioni dal basso ripeto le deve fare chi ha i piedi buoni chi ha i piedi buoni e che si può permettere nella propria area di fare col pallone quello che vuole tutto qui e ripeto anche stasera ho visto due volte gli stessi errori che a momenti due volte ci condannano mi piacerebbe veder finire questo tipo di cose indipendentemente da chi gioca o chi si tratta per il resto cosa aggiungere per il resto direi che mancini si è dimostrato un ottimo allenatore per la nazionale se la nazionale è ritornata diciamo così a buoni livelli a buoni livelli perché io non vado dimenticando che molti tifosi hanno già pronosticato l'italia in finale agli europei molti io personalmente ci vado abbastanza cauto ancora io non credo che questa nazionale italiana per il momento sia ancora da finale anche perché l'italia tra le qualificazioni e adesso le qualificazioni mondiali insomma mi sembra francamente che l'italia non abbia mai incontrato delle grandissime squadre fino adesso quando si incontreranno squadre tipo francia spagna e formazione inghilterra germania quando si incontreranno questi squadroni e si potrà fare un pochino quello che si fa contro squadre come queste allora mi permetterò di dare un giudizio in modo maggiore per il momento io vedo un'italia che ha sicuramente ancora qualche margine di crescita ma francamente vedere un'italia in finale io personalmente assolutamente adesso non la vedo in questo periodo qui da italiano ovviamente me lo auguro per il resto poco altro detto questo mettiamo in a questo 2 a 0 che è un risultato molto importante bravo mancini e i suoi ragazzi li aspetto però a verifiche più impegnative ciao a tutti